La Commissione Giustizia della Camera statunitense ha approvato i due articoli di impeachment del Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump è accusato di abuso di potere e intralcio al Congresso. La votazione è stata di 23 voti a favore e 17 contrari, con democratici e repubblicani che hanno votato secondo la linea di partito. A questo punto il voto in aula ci sarà probabilmente la prossima settimana. Al momento la Camera non ha ancora programmato una data per la discussione e il voto sugli articoli, ma due fonti della CNN hanno detto che l'impeachment potrebbe arrivare in aula mercoledì. Se la Camera approverà l'impeachment, Trump sarà il terzo presidente a subire un processo dopo Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton nel 1999. Entrambi i presidenti furono assolti. Richard Nixon nel 1974 si dimise, primo e unico presidente a farlo, prima che la Camera votasse il suo impeachment. cristina furono assolti. Congressione risi are are ulu alla